Borgognatevi! Pensate alle vostre anime! Ora mandiamo il tuo spirito dentro quell'albero. Una passione bella e tormentata. Oggi Edgar Linton mi ha chiesto di sposarlo. Destinata a seminare dolore nelle vite di entrambi. Come hai potuto tradire il tuo cuore, Katie? Tu mi amavi. Di tua volontà l'hai fatto. Cime tempestose. Domenica, alle 21.20. Non ti ho spezzato io il cuore. L'hai spezzato tu stessa.